Musica Professore Monde dal 18 al 26 appuntamento alla Lilt per un'importante settimana della prevenzione. Certo, in questa settimana noi faremo visite dietologiche per quanto riguarda appunto la mia specialità per cui offriremo alla popolazione che vuole delle indicazioni nutrizionali. Ovviamente sono solo delle indicazioni perché poi bisognerebbe sviluppare dei programmi adeguati per ciascuna persona. Ovviamente attualmente l'obesità è un problema grosso in Campania per cui fare prevenzione o cura dell'obesità è veramente fare attività sociale. Considerate che le due colonne del benessere sono la sana alimentazione e l'adeguata attività motoria. E' un format che io come professore dell'Università Campania Luigi Van Vitelli vado propagandando in tutta Italia perché veramente ci credo che la sana alimentazione e l'adeguata attività motoria possono in qualche modo prevenire l'obesità e tante altre malattie. Un appuntamento professore Belli non nuovo per la Lilt considerato che non è la prima volta che si fanno di queste settimane gratuite. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori ogni anno effettua nel mese di marzo una settimana di prevenzione dei tumori. Prevenzione che interessa sia la prevenzione primaria, cioè la eliminazione dei fattori che possono favorire l'insorgenza del cancro come certe abitudini di vita, per esempio l'abitudine al fumo, il tipo di alimentazione molto ricca in grassi e proteine, povere in frutta e verdura e poi la prevenzione secondaria, la diagnosi precoce del cancro. Ora quest'anno noi faremo presso il poliambulatorio Lilt di Avellino delle visite gratuite al seno appunto per la riscontro precoce del cancro della mammella perché la diagnosi tempestiva in questi casi può portare alla completa guarigione della malattia.